E' stato presentato dai vertici della Fondazione Carifano con il Presidente Fabio Tombari il documento programmatico previsionale 2016 che è stato approvato dal Consiglio Generale il 19 ottobre scorso. L'impegno era quello di mantenere gli stessi importi per tutti i settori e così è stato. Nel prossimo anno verrà erogata la somma di 1.105.000 euro. Queste erogazioni verranno mantenute integralmente ma non realizzeremo nessuna delle opere che abbiamo fatto in passato e questo a causa della diminuzione notevole di rendimenti finanziari e dall'aumento delle imposizioni fiscali. Proseguirà il sostegno a Fanotenio e il finanziamento delle borse di studio così come il supporto alle categorie più deboli e a quelle di assistenza ai malati messi in atto dalle associazioni del territorio. All'Uelfare inoltre andranno le erogazioni maggiori che comprenderanno le attività in favore di portatori di handicap, di aiuto all'infanzia e ai minori. Altre risorse verranno destinate al parco naturalistico Lago Vicini ma anche alla trasformazione in casa di riposo di alcuni appartamenti situati all'interno della residenza per anziani Don Paolo Tonucci. Verrà realizzato un centro residenziale assistito per non autosufficienti, una casa di riposo e una casa albergo per meglio rispondere alle richieste della collettività. Nei primi mesi dell'anno verrà poi completata la realizzazione della nuova scuola d'infanzia di Lucrezia di Cartoceto, mentre a marzo ad aprile verrà inaugurato Palazzo Bracci Pagani che con la sua ristrutturazione diventerà uno spazio dedicato alla cultura. Ci saranno musei di arte contemporanea, musei della scienza, biblioteca, lo spazio Ruggeri e tante altre belle cose. Anche nel 2016 inoltre continuerà l'accantonamento di fondi per l'acquisto di apparecchiatura all'avanguardia per il potenziamento del sistema sanitario pubblico. 1.200.000 euro verranno utilizzati per l'acquisto della IORT, sistema di radioterapia intraoperatoria, a condizione che gli interventi per i quali è possibile utilizzare l'apparecchiatura vengano concentrati all'ospedale Santa Croce. Verrà potenziato inoltre il polo endoscopico fanese che dovrà servire i pazienti di tutta l'area vasta. Il presidente Tombari questa mattina ha ammesso di non aver ancora sentito Maria Capalboni, o direttrice dell'azienda Marche Nord, che durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo incarico aveva dichiarato di sperare in un possibile intervento da parte della fondazione Carifano anche su Muraglia. In realtà, come ha spiegato lo stesso Tombari, per legge le loro donazioni sanitarie possono essere effettuate solo nel territorio di competenza. Io non ho incontrato ancora il nuovo direttore di ospedale di Marche Nord. Le nostre donazioni per statuto devono essere date attualmente all'ospedale Santa Croce. Le cose però potrebbero cambiare nel caso in cui Muraglia diventasse la sede dell'ospedale unico, visto che a quel punto la sanità fanese si sposterebbe nel comune di Pesaro.